Un mare liquido, eppure soldo di contenuti, di valori, di radici, di presente e di futuro. Un mare, luogo sperimentale di convivenza, non sempre pacifica, tra popoli differenti. Il Mediterraneo ci riguarda, perché racconta l'evoluzione culturale umana. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. Grazie a tutti.